Dentro o fuori, la gara della verità per la Chaminade si gioca domani pomeriggio. Alla palestra Sturzo, ritorno del play-out contro il Cataforio. Si riparte dal 6-5 in favore dei calabresi, maturato sette giorni fa. Si gioca la pari, dunque i ragazzi di Pizzuto hanno l'obbligo di vincere la partita. In caso di pareggio o sconfitta, ovviamente Cataforio salvo. Al contrario, con vittoria, con una sola rete di scarto dei rosso-blu, si giocheranno due tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore in caso di ulteriore parità nella differenza reti. Chaminade salva se vince con due o più gol di scarto. Si prevede una vera e propria battaglia sportiva. Nessuno ha intenzione di mollare un centimetro. Pescolla e compagni potranno contare sul fattore Sturzo. Domani, come in occasione del derby contro il Cusmolise, si prevede pienone sugli sparti. Telemolise Sport sempre in prima linea, con la diretta dell'incontro a partire dalle 15.55 sul canale 112, copertura totale dell'evento ed interviste post-partita. Match, come detto, che decide una stagione. Tutti i sacrifici di un'annata concentrati in un'unica partita. Una di quelle occasioni che fanno crescere dal punto di vista sportivo e del carattere, dove serve davvero esperienza e carisma per affrontare ogni momento dell'incontro. Prima ancora delle gambe e della qualità di squadra, in partite come queste, serve la testa. L'aspetto mentale è sicuramente il più importante. La gestione dei momenti chiave e di quelli di difficoltà, oltre a battere al massimo il ferro nel momento positivo. Certo non è facile, ma al termine dei 40 minuti effettivi, qualora dovessero bastare, una squadra potrà festeggiare la salvezza. Molise sportivo tutto in favore della Chaminade. Tifo al massimo per sostenere i ragazzi rosso-blu in quest'ultimo atto della stagione di Futsal Cadetto. Il match dell'andata è stato vissuto con una costante alta lena di reti, da una parte e dall'altra. Possibile vedere anche domani un equilibrio sul filo del rasoio. Partire bene per prendere in massima fiducia, questo l'obiettivo della Chaminade, chiamata a difendere la categoria al massimo delle forze. Appuntamento a domani quindi, ore 15.55, diretta Telemolise Sport, Chaminade Cataforio, ritorno play-out Serie B.